Set ciotole multiple, un set indispensabile. Grazie ai loro sigilli ermetici, queste ciotole conservano perfettamente i tuoi piatti e tutte le tue preparazioni. È composto da 4 basi con esterno testurizzato per evitare i graffi. Il materiale trasparente permette di identificare facilmente il contenuto e sono di 4 dimensioni diverse che si adattano a qualsiasi tipo di esigenza. È da 4 sigilli dotati di una linguetta che permette di eliminare l'aria all'interno dei contenitori e ottimizzare la conservazione. La chiusura tenuta stagna permette un trasporto sicuro di colori diversi per identificarli a colpo d'occhio nel frigo. Misurano 300, 630, 950 ml e 1,9 litri. Se il video ti è piaciuto lascia un like e scrivilo nei commenti e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella.